Sulla situazione finanziaria del Comune di Chieti è ancora scontro tra il Movimento 5 Stelle e il Sindaco di Primio. Samani i Consiglio Comunali pentastellati hanno presentato un'interrogazione per Ottavio Ergenio. Il Comune è già in dissesto. Sì, secondo me è una realtà che si è già realizzata in questi anni. Lo abbiamo detto l'altro giorno in occasione di quello che è stato l'esame della delibera di giunta con la quale questa amministrazione intende procedere al taglio della spesa e alla dismissione anche del patrimonio immobiliare del Comune. Abbiamo appreso appunto di questa nota del dirigente del Quinto Settore che parla della necessità di dover vendere il mattatoio e la piscina comunale entro quest'anno. Quindi vengono individuati questi ulteriori due immobili rispetto a quelli che erano già stati individuati. Ce l'abbiamo tutti i giorni la contezza dell'enorme difficoltà, se non addirittura della impossibilità di questo Comune di funzionare come dovrebbe realmente funzionare, di erogare i servizi che la cittadinanza merita, che gli siano erogati. Parliamo dell'abolizione, per esempio dell'abolizione, della scomparsa del servizio di trasporto scolastico, parliamo della chiusura degli asili nido. Sono tutti quanti segnali inequivocabili della situazione che secondo noi appunto si è già verificata, per quanto manca ancora il sigillo formale. Sindaco, il Movimento 5 Stelle dice che il Comune è già praticamente in dissesto. Ma questo lo dicono tutti i delatori, non dell'amministrazione ma della città. Continuare ad alzare un polverone sulla situazione difficile di finanze ed economia nella quale ci troviamo è evidente, è un facile gioco per le opposizioni, ma non ci si rende conto di quale danno si sta compiendo. L'avere alzato troppo i toni ci ha portato nel mese di gennaio, quando per motivi oggettivi vi era minore disponibilità in cassa, ad avere una aggressione senza precedenti. Cioè ditte che non pagano i propri dipendenti, non li pagano prendendo a scusa il fatto che il Comune non li paga, con un ritardo tutto sommato normale. Insomma, credo che questo gioco al massacro da parte delle opposizioni non possa essere più tollerato. Non è più tollerabile che si continui a dire che il Comune sta per, sta per, creando allarmismo e poi in questo modo non comprendendo che si crea prensione, si crea uno stato anche di agitazione nei creditori del Comune. Noi abbiamo scelto una linea, prosegue di primio. Che è quella del rigore nella gestione delle spese, quindi vuol dire tagliare le spese, nel togliere tutto ciò che non è più sostenibile, nel levare anche qualche privilegio di chi magari per comodità sceglie di utilizzare servizi comunali che invece andrebbero destinati a chi ha bisogno. Intanto sempre a Chieti sono iniziati i lavori alla Caserma Berardi, che ospiterà una cittadella della pubblica amministrazione e gli studenti del liceo scientifico.